Buonasera da Castelvolturno, in compagnia di Francesco Marciano che ringraziamo di Radio Kiss Kiss. Francesco, andiamo subito nel vivo della conferenza. Benitez non si è sbottonato ancora una volta più di tanto sul mercato, però qualche indicazione ce l'ha data. Sì, indicazioni solite di un Napoli che è alla ricerca di sostituti fondamentalmente degli infortunati, berami su tutti. Napoli ha bisogno, per quanto mi riguarda, di due centrocampisti e qualcosina si sta muovendo. Adesso bisognerà un po' capire quello che succederà. Credo che la pista con Alon non sia del tutto tramontata, anche se ieri sera c'è stata una frenata nuovamente dalla Francia. Però Benitez ci ha detto qualcosa. Innanzitutto la squadra deve recuperare i giocatori fortunati storici, da Amsic a Zuniga a Mesto, ma soprattutto avrà bisogno di giocatori in grado di completare questo processo di crescita dal punto di vista qualitativo della squadra e anche dell'equilibrio in campo che viene un po' a mancare nelle partite. Sembra si sia chiusa la querelle Berami. Sì, lunedì il consulto a Barcellona con il professor Villarubbia. La querelle si è chiusa da questo punto di vista. Adesso bisognerà conoscere i tempi di recupero che non saranno inferiori al mese e mezzo. La questione è aperta da questo punto di vista, anche perché c'è un mondiale, il giocatore per carità è un calciatore, un grande professionista. Però sai, nella stagione del mondiale qualcuno potrebbe avere il timore di infortunarsi. Molti calciatori fanno un po' questi ragionamenti, soprattutto quando inizia l'anno che porta al mondiale, quindi il 2014 in questo caso. Non è il caso di Berami che è un guerriero indomabile, però sai, due mesi fei... Grande professionista, l'ha rebatito più volte che... Tengo a sottolinearlo, non si ha mai. Ribadiamo appunto questo. Però a due mesi, magari sei fermo due mesi, mancherebbero poi quattro mesi più o meno al mondiale. È chiaro che il Napoli avrebbe bisogno comunque di un giocatore, lo diceva Benitez peraltro, in questi sei mesi, eventualmente per i prossimi e o eventualmente ancora per il progetto. Quindi, insomma, è stato molto chiaro anche in questo Benitez. Giustificato quel pizzico di cattiveria agonistica in più contro il Verona? Guarda, direi di sì. È vero che la gara con il Verona dal punto di vista sportivo non è affrontare la Juventus, cioè ci mancherebbe altro. Però per tutte quelle cose ambientali che ci sono state da quando il Napoli in Serie A, insomma da sempre fondamentalmente, dai striscioni benvenuti in Italia, colerosi, che già c'erano negli anni Ottanta e non solo adesso. Credo che, e poi ricordiamo anche nel 2007 quando il Napoli fu promosso in Serie A, ci fu quel 3-1 a Verona in cui veramente i tifosi napoletani, i giornalisti furono assaliti. Quindi credo che ci sia anche uno spirito di rivalza che anima sempre i napoletani nei confronti del Verona. Quindi al di là di questo il Napoli è più forte. Guarda, lo dicevo un attimo fa in radio, è più forte. Il Verona ha il netto degli infortuni. Nonostante il Verona meriti i grandi complimenti dell'oggi per un campionato fantastico che sta facendo, per una costruzione di una squadra fatta ad hoc, con giocatori importanti, giovani, di qualità, vecchietti, veditoni e quant'altro. Che però stanno rendendo al massimo. È chiaro che il Verona magari potrebbe scendere in classifica perché mi aspetto un ritorno dell'Inter, dello stesso Milan, la stessa Lazio. Insomma ci sono squadre più attrezzate. Però il Napoli al netto degli infortuni è decisamente più forte del Verona. Mi aspetto una partita, si può dire, cazzuta, da parte degli azzurri per le questioni ambientali, ma soprattutto perché il Napoli ha due punti dalla Roma. Se si vuole pensare, come è giusto che sia, all'obiettivo grande, cioè lo scudetto, quindi pensare alla Juventus, devi prima scavalcare la Roma. Dopodiché, assestandoti sul secondo posto, al secondo posto poi cominci eventualmente la scalata al primo posto. Mi dai là per la chiusura e per l'ultima domanda. Il campionato del Napoli d'ora in avanti sarà giocato in casa contro le grandi e in trasferta contro le piccole. Le stesse piccole a volte che ci hanno dato problemi. Vediamo Udinese, vediamo il Parma. Il Sassuolo. Il Sassuolo, lo stesso Sassuolo. Quale sarà, diciamo, dove si giocherà la partita? In casa con le grandi o fuori con le piccole? Allora, è indubbio che gli scontri diretti siano importantissimi. I campionati però si vincono con la continuità. Perché ricordo sempre una considerazione di Ottavio Bianchi, che negli anni degli Scudetti diceva sempre io, sì, mi fa piacere a me per far piacere battere il Milan, ma se non batto l'Empoli che me ne faccio di battere il Milan? Quindi secondo me è anche addirittura più importante avere continuità con le piccole, che tu gli scontri diretti magari in teoria li puoi anche perdere, però è con le piccole che tu hai. Perché le piccole sono di più numericamente. Sono molte di più. Ci sono tre o quattro squadre che sono al tuo livello. Ci sta che perdi. È ovvio che noi vorremmo sempre che il Napoli vincesse tutte le partite. Però se deve perdere, io preferisco perdere uno scontro diretto piuttosto che perdere punti in casa col Sassuolo, col Parma, con l'Udinese e tante cose. Quindi mi aspetto dal Napoli. Ovviamente la spinta del San Paolo e quindi che possa sfruttare il fattore campo negli scontri diretti, ma soprattutto in gare, vedi, le prossime partite. Il Chievo, il Bologna, il Genoa stesso, il Verona domani. Insomma ci sono tante partite che il Napoli deve vincere perché sono alla portata della squadra e soprattutto perché se vuoi arrivare in alto non puoi perdere con le piccole. Speriamo che cominci già la domenica prossima. Ringraziamo Francesco Massano di Radio Chischisse e vi salutiamo da Cassevo il turno.